E' stata inaugurata nella mattinata di sabato 16 dicembre la nuova scuola dell'infanzia Il Piccolo Principe a Lucrezia di Cartoscito. Una struttura di oltre mille metri quadrati su una superficie di circa 5.500 realizzata grazie alla collaborazione del comune con un investimento di circa 600.000 euro e dalla fondazione Carifano con 1.300.000 euro. Una struttura all'avanguardia e dei grandi spazi per gli oltre 120 bambini che potranno usufruire dell'intera scuola e con un alto valore per quanto riguarda la formazione, l'educazione e la cultura. Una nuova scuola dotata dei più elevati standard tecnologici anche da un punto di vista energetico. Ampi spazi dedicati a quella che è la libera creatività dei bambini che poi di fatto la vivono insieme al personale ogni giorno. Siamo davvero molto molto onorati di farlo. A nuova scuola dell'infanzia Il Piccolo Principe che come potete vedere attorno è caratterizzata da diverse aree verdi anche molto estese, molto 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 importanti. Addirittura dall'interno i bambini potranno vedere dei giardini interni direttamente dalle loro aule. Ci sono anche tutta una serie di piantumazioni di alberi da frutto nei quali poi i bambini potranno sviluppare dei progetti assieme al personale docente. E quindi siamo davvero molto orgogliosi di spalancare e di regalare alla collettività oggi in questo giorno storico una nuova scuola dell'infanzia. Durante l'inaugurazione, oltre alla presenza di autorità civili e religiose, anche i genitori dei bambini soddisfatti dell'opera che accoglierà i propri piccoli nel loro percorso di crescita. Ad aglietare invece la mattinata il corpo bandistico di Cartoceto. Ad aglietare invece la mattina del corpo bandistico di Cartoceto.